eccoci all'interno come abbiamo detto siamo nel secondo piano come potete vedere ci sono questi muri spogli e una particolarità che adesso vi farò vedere le strutture murarie sono molto regolari nell'affaccio verso l'esterno e molto irregolari nella parte interna come potete vedere c'è a vista la roccia del campidoglio perché l'insula si addossa al banco tufaceo e c'è un muro spesso che pare sia precedente all'insula che era un muro di contenimento della roccia realizzato in opera reticolata nel tempo in alcuni punti sono state scavate nicchie grotte cantine facendo diventare gli interni irregolari questo è il secondo ambiente nel secondo piano dopodiché la visita continua salendo le scale e accedendo al terzo piano dal quale si può godere di un bell'affaccio sulla strada odierna eccoci in alto all'esterno da dove possiamo vedere un pezzo del vittoriano il campanile della chiesa medievale esistente già nel dodicesimo secolo si attraversa anche un passaggio condominiale il pianerottolo sul quale si affacciano i vari appartamenti ed eccoci di nuovo affacciati dalle finestre antiche ad un certo punto una piccola sorpresa un pezzetto di pavimento romano tornati giù e usciti fuori dall'insula a visita finita diamo un ultimo occhiata all'esterno non si vede nulla a causa del troppo buio ma lì sotto ci sono le botteghe e i mezzanini abitati dai bottegai magari torneremo a fare una passeggiata di giorno sotto la tettoia c'è la nicchia affrescata relativa alla chiesa medievale ecco questa è una foto nella quale si vede abbastanza bene ultima cosa da notare all'esterno è la lesena e lo zoccolo di marmo bianco lasciate volontariamente a testimoniare la presenza della chiesa secentesca di Santa Rita da Cascia che inglobò quella medievale vi saluto con la scalinata della Raceli dalla quale si vede il mozzicone di muro che testimonia il quarto piano dell'insula alla prossima